Per due giorni consecutivi oltre 400 unità della Polizia di Stato hanno effettuato una vasta operazione anticrimine nella zona di confine delle province di Foggia, Barletta, Andiatreani e Bari. In tutto sono stati effettuati 13 arresti, identificate oltre 11.000 persone e sono state sequestrate armi e materiale tipicamente utilizzato per le rapine ai furgoni portevalori. Di rilievo anche il sequestro di quasi 9.000 pezzi di ricambio di autovetture di alta gamma che erano già pronti per essere destinati al mercato nazionale. Si tratta di una nuova attività ad alto impatto che si va ad affiancare a quelle tradizionali di controllo del territorio e che tende a valorizzare elementi investigativi che riguardano gruppi criminali che saranno comunque poi colpiti dalle attività più strutturate che la Polizia di Stato attraverso le squadre mobili svolge sistematicamente in tutte le aree ad alta densità criminale.